Nel corso di queste puntate di Food Sport, caro Enrico, hai fatto delle chiacchierate con ex calciatori, ex allenatori, ex dirigenti, ex quello che volete, che hanno intrapreso una carriera da imprenditori, no, del settore del food. Ma nessuno di questi da ex calciatore poi è diventato chef. Certo, te lo dico io perché mica sono matti. Perché? Perché sono matti, perché lavorare in cucina è dura, adesso lo chiediamo... Però Roberto Scarnicchi invece l'ha fatto, ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Passo complicato però allora. Enrico ha detto esattamente quello. Infatti è un cavallo passo, quindi è giusto. Fanno tutti gli imprenditori, ma i vuochi no, è difficile. E spesso non vanno bene. Sai che non mi viene in mente nessun altro? Probabilmente sei l'unico che da calciatore... Poi no calciatore così, calciatore a altissimi livelli poi è diventato chef. Ci sono stati un paio di giornalisti del Gambero Rosso, anche riviste importanti americane, quando sono stato in America che hanno studiato questo mio caso e sono in questo momento l'unico al mondo. L'unico al mondo ad essere stato prima calciatore e poi... È una cosa però Roberto che ti chiedo, no? Molti, lascia stare il tuo caso che tu però sei diventato chef, ma molti ex calciatori, ex del mondo del calcio, poi si sono dedicati a quest'altra passione, soprattutto italiana ma mondiale, che è il cibo. Perché secondo te? Perché è molto aggregazione, cioè il ristorante vai come se dopo la partita vai al ristorante, quindi diciamo che c'è un connubio, un binomio molto molto intenso, soprattutto col fatto della continuità, perché tu prima di andare a vedere la partita mangi, dopo la partita mangi, quindi diciamo che è una continuità di conseguenze, per cui questo credo che abbia portato a far sì che la maggior parte dei giocatori potessero prendere questa iniziativa appena finito il calcio. Ci sono stati i tuoi ex compagni di squadra che sono venuti a mangiare da te? Vengono? Sì, io non chiamo nessuno, però ci sono. Non chiamo nessuno perché sono liberi di farlo. Sono venuti, sono venuti a mangiare, vengono sporadicamente, è venuto qualche giocatore attuale, sono venuti i giocatori della Lazio nel ristorante quando avevo un ristorante a Prati, quindi sì, ma io non foro, io lo dico, poi se vogliono venire è bene, mi dicono che sono caro, per cui... Ma davvero? La qualità si paga. No, no, non dirlo, il romano sai che vuole... Roberto tu lo sai, il romano non gli interessa se il piatto è buono o no, interessa che è tanto. Questo lo dico da romano e questa cosa non va bene. Senti Roberto, una curiosità, tu giocavi a pallone, ti ricordi se hai più passione ora che fai lo chef, il cuoco, oppure quando giocavi a pallone se dovessi fare la soppesata? Guarda, è molto simile, come ti dicevo prima anche il fatto di aggregazione tra i due mestieri. Giocavo in un certo modo, con una certa passione e ho giocato forse in Serie A proprio perché avevo passione ed ero forte fisicamente perché secondo me non ero bravissimo con i piedi, insomma ero sì bravino, ma no, però ed è nata prima la cucina, io ho 8-9 anni, ero in cucina con mia madre e mia nonna, poi ho iniziato a 13-14 anni a giocare. Quindi tu non sei stato prima calciatore e poi dentro la cucina? No, sono stato prima amante della cucina, ma vi spiego, quando apri il frigorifero, questi frigoriferi vecchi della nonna che poi magari oggi lo guardi, non è altissimo, ma prima ti sembrava enorme, questi pomodori san marzano, questo basilico verde, la mozzarella bianca, la pasta stesa sui lenzuoli bianchi delle nonne che la tiravano, che tu andavi a rubarla sotto per mangiarla cruda, cioè tutte cose che fai da ragazzino se ami un certo tipo di situazione e io già lì ho capito che per me la cucina era qualcosa di passionale, poi ovviamente è venuto il calcio e sicuramente lo saprete, ma tutti i miei compagni hanno sempre voluto mangiare con me purtroppo, per fortuna, a casa mia quando giocavo, perché dicevano vabbè adesso ci fai da mangiare, va bene. Quindi anche quando giocavi però dilettavi i compagni di squadra con... Per forza, quello assolutamente sì, perché volevano proprio venire a mangiare da me. Senti, siccome avevamo provato a chiamare il bomber ma è in sauna, pensa, stava facendo una bella sauna, che tipo era il bomber a livello pure di mangiare? Era uno di quelli che gradiva? No, intanto vediamo Roberto. Era un buon gustaglio secondo me, lui è una persona che ha sempre amato mangiare in un certo modo, si è sempre tenuto però, infatti è vero che secondo me ha veramente ancora un bel fisico. Corre, corre. Corre, quindi no, però è una buona forchetta. Lui ha assaggiato la mia cucina in una trasmissione a Genova, io ho fatto dei piatti in una trasmissione, lui era ospite ed è rimasto molto molto contento. poi quando potrete parlare con lui, uscite dalla sauna. Domani mattina pure. Infatti Roberto ha un ristorante insieme a Antonio Di Carlo e Faccini, credo, però non cucinano. Senti Roberto, ti piace più cucinare gourmet? Roberto Pruzzo. A un ristorante insieme a... Sì, Pruzzo, Pruzzo. Ti piace più cucinare gourmet, quindi tutto curatino, oppure ti piace una cucina semplice curata col prodotto di qualità, di territorio? Guarda, vengo da una scuola gourmet, naturalmente come tutti gli chef, veniamo da una formazione dove per sei mesi non tocchi i fuochi, non tocchi i coltelli, ma fai solamente chimica, biochimica, botanica, cromia, quindi io sono più gourmet. Però devi essere bravo, secondo me, a fare quando necessita, io ho fatto tante manifestazioni anche nei miei ristoranti di una cena mirata, perché poi spendono 130, 140, 150 euro a testa, quindi lo puoi fare una volta, a meno che non decidi di fare lo chef stellato, lo chef gourmet e basta e prendi in considerazione altri tipi di menù. Quindi mi sono portato su una tradizione un pochino rivisitata da me nei miei ristoranti con sempre dei miei piatti. Io mischio un po' gli alimenti, faccio un po' di confusione, diciamo, gastronomica. Naturalmente deriva solamente dalla conoscenza, se no non la puoi fare quella. E quindi, diciamo, per rispondere ad Enrico, sicuramente mi piace la gourmet, però la tradizione Damme, una matriciana abbondante, fatta in un certo modo, come si diceva. Io te la do, insomma. Ma, ecco, c'è Valerio Vicentin che è un, diciamo, un esperto enogastronomico in incognita. Ce l'avrà pure tu i calciatori. Ce l'hai pure un po' quei calciatori, oltre che con la Stella Michelin, Valerio? No, non ce l'ha con me. Meno male. Il calciatore, però, Scarnecchia mi ha fatto passare un nuovo pomeriggio più tristi della mia adolescenza, perché mi ricordo in questo Inter-Roma, in cui sembrava Gareth Bale, ci massacrarono 4-2, mi pare, e noi eravamo forti, insomma, che arrivavamo di tre forti, perché quel campionato per noi andavamo malissimo. Ma la Scarnecchia era forte. Ha detto una cosa interessante, ci somigliamo un po', oddio, grazie, cioè, ringrazio lui che somiglia a me, ma perché è solo più giovane, però ha ragione, e quella partita vincemmo 4-2, io mi sono fatto il manicone. Fai proprio una giornata... Eri Gourmet, quel giorno. Ah già, vi ricordo che ho sentito adesso la radio che è interista, è vero. Sì, sì, sì. Valerio è interista. Ma non per questo devi essere cattivo con Roberto, poi, quando va? No, no, no. Ma non è prescindibile. L'hai perdonato. L'hai perdonato? Brava, beh, col tempo, col tempo un po'. No, che ne pensi, Valerio, dei VIP, dei calciatori che aprono dei ristoranti, secondo te, è corretto? Ma l'hanno sempre fatto, no? L'hanno sempre fatto, ma di solito con risultati modesti, perché, appunto, magari non si raccontano direttamente nel ristorante, fanno un po' di PR e basta, e quindi di solito vanno a finire male. Dice, chiaramente, che lavora dentro al ristorante, è tutto un altro discorso. Lo perdoniamo, dai. No, ma... È la prima volta che è buono. Esatto, è clemente con Roberto. Con Roberto. Senti, Roberto, ma ci hai mai pensato poi, ovviamente, credo di no, ma perché hai proseguito un altro tipo di carriera, a rimanere all'interno della carriera calcistica? Ma io ho fatto per un po' di anni l'allenatore. L'allenatore? Sì. Al Dertona, mi ricordo. Sì, Dertona, Boghera, in Serie D, perché avevo un ristorante suo al nord, quindi ho fatto l'allenatore e trovo tantissima sinergia, perché l'allenatore ha l'allenamento che è la preparazione della linea, quindi prepari la cucina al servizio e poi c'è quell'ora e mezzo della partita che è l'ora e mezzo quando ti entrano 100 persone, quindi la vedo molto simile. Cioè, guidare una brigata è molto simile a guidare una squadra di calcio. Assolutamente sì, quindi mi sono trovato bene. Poi purtroppo c'è stata un'offerta importante, che non dico per rispetto chi era Ligure, addirittura in Serie B, che ho dovuto purtroppo dire di no con veramente molto rammarico, perché mi sono seduto sicuramente con i miei soci e ho detto cosa faccio e lui ho detto tu sei matto, no, perché se no qui va tutto, abbiamo quattro ristoranti, quindi insomma c'è una situazione un po' complicata. Avresti dovuto ricambiare vita un'altra volta. E questo parliamo di circa quattro anni fa. Ah, neanche tanto. Dopo il Dertona, siccome sono venuti, ho allenato il Dertona, siamo salvati, poi siamo andati in una situazione incredibile, allora sono venute squadre importanti a vedermi, ripeto il cognome aiuta molto nel calcio che conta e quindi ho detto dai rimani in queste zone e vieni a allenare la Serie B. Rivolgiamo scarnecchie in panchina. No, 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 no. Così fai anche il menù. Non ce la faccio, guarda, faccio la trasmissione Mr. Chef, lo sai, no, Enrico? Inizi, inizi. Ah, ricomincia? Ricomincia la trasmissione di Mr. Chef, sì. Eh, vedi? Io forse ho capito qual è la squadra perché ho fatto un po' di connessioni. Non è difficile. Non è difficile, esattamente. Però, ovviamente tu il calcio lo segui, no? Perché adesso è chiaro che in questo momento ti aspettavi. Ecco, tu che sei stato un grande giocatore, ti aspettavi una difficoltà di alcune squadre in questo periodo? Cioè, metti il Milan anche che sta passando un periodo un po' particolare, adesso anche il Napoli, Roma e Lazio che si stanno riprendendo. Ti aspettavi una difficoltà? Onestamente sì, per un motivo. Perché il calcio purtroppo in questi ultimi anni si è un po' livellato. Purtroppo si è livellato verso il basso, permettetemi di dirlo. A parte la Juventus che è straordinaria sempre, ma tutto il resto si è un po' abbassato di livello. E le squadre più piccole sono cresciute. Perché? Perché hanno capito il modo per attaccare, uso un termine calcistico, le squadre più grandi. Quindi una preparazione fisico-atletica incredibile, un atteggiamento assolutamente positivo, una autostima altrettanto positiva, un timore reverenziale quasi nullo. E questo ha portato ad essere sempre molto dannose per le squadre grandi. Tant'è vero che secondo me, a parte magari due o tre squadre che sono un pochino magari inferiori, il livellamento si è molto alzato. Ti faccio quattro nomi. Il primo è Ancelotti. Che cosa ti viene in mente di questo momento di Ancelotti? Di là che è stato mio compagno quattro anni, ma lui è un uomo, un allenatore straordinario, ha la capacità perché è proprio genuino. Lui non è finto, è vero. E quindi ha questa capacità di passare tutto. Forse lo sta pagando un po' questa sua generità, secondo te? Assolutamente sì, hai detto bene. La sta pagando, però secondo me poi le riverrà a favore perché non si può mettere in discussione a Napoli adesso Ancelotti, onestamente. Cioè sta sicuramente in una posizione settimo, se non erro, ma siamo tutti lì. Perché forse l'unico che è un pochino un passo avanti è l'Inter, perché la Juve le leviamola. L'Inter, ma perché, Valerio non so se è linea, perché è molto fortunata in questo momento. Ha un Andanovic straordinario. Confermi, Valerio. Che credo che sia il portiere più forte senza assoluto della Serie A. L'altro nome che volevo farti è proprio Conte. Conte non mi è simpatico, personalmente ripeto, ma non lo conosco, quindi non mi permetto di giudicarlo come persona. E non mi piace neanche il modo di allenare, però ragazzi purtroppo la differenza la fa nei risultati e quindi lui in questo momento sta avendo risultato. Non mi piace come si pone quando perde, è sempre colpa di qualcuno, però onestamente non lo so. Però io ripeto, lo dico adesso che siamo al 15 novembre l'Inter avrà un picco. Valerio adesso si deve fare una critica. Adesso ti massacra un piccolo calo. Secondo me è un piccolo calo. Quindi non ci credi che all'Inter può vincere lo scudetto? No, io credo che il secondo posto sia ancora molto appetibile dalle tre squadre. Tu, Valerio, tu believe in Conte oppure no? Insomma, Conte, chi sia bravo, non lo mette in discussione a nessuno. Che non si mostro di simpatia, anche questo è un dato di fatto abbastanza evidente. Sul calo penso anch'io perché poi abbiamo vinto un sacco di partite di misura, quindi rischiando che fossero dei pareggi e in più non è che possiamo vincere sempre 10 partite su 12. Quindi io all'inizio del campionato ho detto faremo 75-80 punti e spero che più o meno. Non mi aspetto di più, spero non di meno. Non è una cifra scudetto forse, ma è una cifra che ti avvicina sicuramente. Secondo, terzo posto. Comodamente in Champions League. Altro nome che ti voglio fare è quello di Fonseca. Ti sta convincendo? Anche il suo modo un po' più pragmatico ha cambiato qualche suo modo di vedere, si è messo un pochino più coperto, si è trasformato un po'. Bravo, è proprio questo. Perché all'inizio naturalmente ho cercato di studiarlo un pochettino in silenzio perché non conoscendolo, non sapevo naturalmente quale fosse stata la sua carriera, l'ho solamente letta ma non l'ho mai visto. E mi è piaciuto dopo, perché lui ha capito dopo l'Atalanta, ha capito che così non poteva andare. E lui è stato bravo perché guardate che una delle cose più difficili è quella di cambiare idea. E quindi lui invece l'ha cambiata, si è riassettato in una maniera diversa e la Roma ha fatto anche queste ultime due sconfitte. Io non sono molto preoccupato, quindi a me è piaciuto molto il Fonseca dopo Bergamo, cioè scusate, dopo l'Atalanta. Già con l'Atalanta aveva cercato di modificare qualcosa, forse erano i primi passi. Sì, ha messo a specchio lì, non ero molto d'accordo, ma comunque durante la gara ha cercato anche di fare qualcosa. Però dopo ha capito e ha detto, oh ragazzi venite qua perché così andiamo a pressare ogni tanto ma stiamo dieci metri più indietro. Poi non rinunciamo a salire nel momento in cui pressiamo. Quindi è una fisarmonica molto complicata, difficile da fare, però lui li sta allenando molto bene. Quindi credo che dia dei buoni risultati soprattutto quando la rosa tornerà ad essere completa. Siccome Roberto la tocca forte, voglio sapere, è lo chef che stima più di tutti quanti, anche questi qua mediatici. Esatto. E qual è la migliore cucina italiana, anche di quel prodotto, se dovessi scegliere? Allora ti parlo, Giorgio l'ho seguito, a me piace molto, mi piace molto, per lui è molto tradizionale. Sai prima tu hai detto di Ancelotti genuino, pure Locatelli mi sembra molto genuino. Esatto, lui fa le cose semplici, le fa molto bene, un po' come Antonino Canavacciolo. Però devo dire che io amo Massimo Bottura, per cui... Però un po' più, la tocca un pochino di più, giusto? Sì, no, è che lui inventa, ogni volta inventa, a parte anche Heinz Beck, ma lui è una sacca. Heinz Beck, prima abbiamo fatto vedere la foto, è Heinz Beck che ha chiesto la foto a Scarnicchia, non il contrario. Io l'ho subito due anni quando era pazzo, io l'ho dato lì. Adesso è migliorato. Adesso si è tranquillizzato. Però lo chef che mi piace più in senso assoluto è René Rezepi, che voi dite chi cacchio, eh? Io ci sono stato. Ok, e credo che sia una persona incredibile perché dalla natura fa dei piatti, lui sfrutta anche le foglie di erba, lui sfrutta i sassi. Io ho mangiato le formiche, non sapevo che erano formiche. No, le formiche, le formiche all'allevamento. Naturalmente quello che mi piace più di tutti è così. Poi c'è Gordon Ramsay, quelli stranieri, ce ne sono tanti, diciamo. Però ecco, Antonio Canovacciolo, che a me fa sorridere, c'è Davide Oldani, che a me piace molto e lui è rimasto una stella, non so per quale motivo, forse per una sua scelta, perché Davide è veramente preparato. Però ripeto... Perché avere due stelle poi diventa... Roberto dobbiamo farlo venire perché è molto tecnico, però avere una seconda stella implica un investimento maggiore. Non solo, ma è un investimento anche economico. Quindi non è un riconoscimento al merito soltanto? Anche, bravo. Diciamo che anche, hai ragione, ma non è la priorità in quel momento. La prima sicuramente è il piatto dello chef. E poi c'è una cosa da svelare e da sfatare che Enrico sicuramente lo sa, che comunque anche se quel suo chef fa quel piatto in quel ristorante, la stella è del ristorante. Cioè se lo chef va via... Ah, la stella rimane... Se lo chef va via, la stella è del ristorante. Lo chef, per avere la stella, deve riaprire un altro ristorante. Se no, ipotizziamo, è sempre lo chef stellato. E questa cosa è da rivedere. Valerio, condividi questa cosa, infatti? Con questa cosa qua, Valerio. Io non molto. Questa qua, no. Sì, teoricamente è così, ma in realtà non è così. È un'altra delle leggende della Michelin. Se se ne va via lo chef... A parte che loro dicono che è la prima stella di tutto il ristorante e dalla seconda in poi si nomina lo chef. Comunque se va via lo chef viene ridiscussa la stella automaticamente. Assolutamente sì. No, no, vale. Volevo dire solo questo. Che comunque riescono gli ispettori della Michelin e vengono a vedere se lo chef nuovo merita la stella. Cioè mantiene i canoni... Mantiene i canoni, però non gliela tolgono immediata. Cioè riescono gli ispettori giustamente perché devono capire se quella location merita la stella. Eh, questa è un'operazione un po' particolare. Io ci vorrei un pochino pure andare a fondo perché mi sembra folle. È chiaro che i piatti li fa lo chef e li pensa lo chef e non li pensa, in questo caso, penso a tanti anche locali a Roma, no? Che hanno magari una stella Michelin. Eh, ma là se non c'è lo chef a chi la dai questa stella? No, no, è così, è così. Scusate. Poi la mano è lui, l'idea è lui, è lui che coinvolge la brigata. Ma non c'è dubbio. Roberto diceva una cosa pazzesca, cioè penso adesso, anche nei ristoranti, Roberto, c'è il briefing, quindi prima di entrare e fare il servizio alle 19, parliamo per la sera, c'è il briefing tra le responsabili di sala, con lo chef, è come se fosse l'allenatore che parla alla squadra. Il prepartito, no? Guardate, ma io ho trovato in questi anni, in questi trent'anni, in questi trent'anni, una similitudine incredibile, tant'è vero che io credo di essere riuscito anche a fare lo chef e anche l'allenatore per questo motivo, perché sulla comunicazione, io naturalmente ho fatto anche un master di comunicazione, quindi è fondamentale la gestione delle risorse umane, appunto la comunicazione con le risorse, quindi tutto quanto, però è molto molto simile, perché la pressione dell'ora e mezza, vi garantisco che ogni tanto volano i piatti, volano le pentole, in maniera molto differente da trent'anni fa, devo essere sincero, oggi gli chef sono cambiati perché sennò... Per fortuna. Sì, per fortuna, devo essere sincero, per fortuna a me piace molto l'ambiente tranquillo e poi vi dico un piccolo segreto che naturalmente Enrico e Valerio sicuramente lo sanno, quando si entra, si va in M, che sarebbe in mer, non dico in le, in cucina, fermatevi un minuto, un minuto, 60 secondi, che per noi in cucina sono un'eternità, ma per la gente in sala un minuto in più, un minuto in meno non cambia. Bello, allora io Valerio e Francesco, Roberto lo tiro fuori, prenderò questa intervista che è uscita su YouTube, la porta a scuola ai miei ragazzi, gli dirò, guardate un ex giocatore, comunque è stato un giocatore importante, veramente Roberto mi hai trismesso un'umiltà e una semplicità, mi sei arrivato alla grandissima. Senti, ti possiamo ridisturbare una volta Roberto, perché... Francesco, Enrico è veramente un amico. Abbiamo un sacco di cose da dire, secondo me anche con Valerio, insomma tireremo fuori dei belli... Ma andiamolo a mangiare da Roberto però Valerio. Come no, Valerio, sei mio ospite, perché ho detto dell'Inter una cosa brutta. Non te lo dici. È mio ospite con la signora. Allora, per cercare di alleviare, lenire quella ferita, a cena da Roberto Scarnicchia. Ma lui non si va a vedere come fa ad andare a cena ospite? No, io non posso. Aspetta, ascolta, noi diciamo che facciamo una cosa... Viene con un amico, ma non è che deve essere... Ce la studiamo, dai, ce la studiamo. Intanto grazie Valerio, un saluto a te, alla prossima. Buon Milano, ciao Valerio. Buona Milano e grazie Roberto, grazie mille a Roberto Scarnicchia.